Allora, tutto bene? Io... no, mi ha un po' smosso il video fuori, infatti sto ancora... ha riportato su un sacco di emozioni. Però con Luca tutto bene? Ah sì, sì, benissimo. Tutto alla grande, sì. Assolutamente sì. Siamo felicissimi. Contro tutti i pronostici, ci siamo! Adesso parto per questa nuova esperienza e devo ringraziare veramente... Comportati bene, eh. Certo, però. Cerca di... Tutto possibile. Lei è veramente speciale, anche in questo periodo un po' delicato prima di partire, insomma, mi sta sempre vicina e quindi non so come ringraziarla, mi sostiene in tutto veramente, anche quando gli impegni viene con me, mi aiuta, se non ci fosserei a volte non so un po' come mi organizzerei. Solei, mi raccomando, eh. Sì, ma... Assolutamente, terrò duro, ma non ho dubbi, ormai ho imparato a conoscerlo prima, magari potevo avere una paura tremenda, invece no. Ma era riferita a te, mi raccomando. No, mi raccomando... Mi raccomando, no, 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 no. Ah, per me, dice... No, 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 ha capito giusto lei. Ha capito, no, non ho capito niente. No, no, ha capito giusto lei.